Lui è... Saluti, Dio, ciao a tutti. Io non so... Ci conosciamo benissimo. Negli ultimi tempi stiamo più frequentando il suo museo, i suoi musei che il nostro. Presidente, ci vorrebbe raccontare... I tuoi, i tuoi. Presidente, ci raccontate l'importanza di questa giornata? Beh, diciamo che è la partenza di questo progetto adotto un'opera che è partita già da un annetto e con molto piacere presentiamo il Saluti queste prime quattro opere, grazie anche al contributo della regione campanile. Diciamo che è un punto di partenza, non un punto di arrivo, c'è un primo lotto di quattro opere... belle, importanti, molto grandi anche come misura. Di cui una la vediamo alle nostre spalle. No, questa qua... La partiene all'altro precedente. Questa qua è ancora precedente e questa fu fatta con una raccolta privata da parte di amiche del museo. Intanto l'abbiamo inserata da qui nella sala dei contatori perché Dovide Esauro è talmente bella, tutto il valore dell'opera. Abbiamo cominciato un attimo a fare un posto in modo che si capisca meglio e poi abbiamo cominciato a mettere nuove vinciture vicino ai quadri in modo che si possa capire anche chi ha effettuato il prestato. Diciamo che queste prime quattro opere sono sopra, adesso faremo un cinetto che vedremo. C'è un partello di relatori importantissimo. Sì, cerchiamo anche dal tuo appello, dalla tua chiamata, hanno risposto. La chiamata del Montfeo, hanno risposto in tanti, mi fa piacere. Come stavi dicendo, è la partenza del progetto. Poi sul futuro abbiamo ancora tante altre persone, altri restauri che dovranno arrivare. Diciamo che alla riapertura del museo nel 2020 cominciamo con altri otto restauri. Altri otto sono in fase di approvazione da parte dell'autopietente, altri otto progetti. Altre decine di persone che hanno contribuito e che vengono arrivare al restauro, sono in attesa di ricevere il contratto. Quindi diciamo, ci saranno quel paio di anni di lavoro, di restauro rifatti. E speriamo che in questi due anni vengano altre contribuzioni da parte di altre persone. lanciamo l'idea del crowdfunding che sicuramente dà una mano, un supporto, un aiuto in generale per fare l'aniversario che partiene al patrimonio. Grazie Presidente, ma noi non ti vogliamo. Io sono sempre qui a disposizione vostra, a disposizione del museo e a disposizione della città. Grazie. Grazie.